Campionato italiano Beretta Excellence, versione Uniform Pro, 400 piattelli di gara, 100.000 euro di monte premi, madrina Jessica Rossi. Io direi che Alberto aspetta a te spiegare il meccanismo di questo bellissimo circuito. Beh sì, in breve, vivendo da diversi anni l'esperienza di Retta nel campo di tiro, è stato un grande onore fare questa proposta a questa azienda che ovviamente ha dimostrato di essere innovativa nel recepire le idee e nell'avere una visione probabilmente futurista che è anche del tiro a volo. Quindi brevemente l'idea era creare un circuito che facesse sentire, come adesso ha detto Jessica per Beretta, ha detto quest'anno mi sono sentita in famiglia. L'idea era in qualche modo fare sentire in famiglia i tiratori lungo tutta la stagione. Quindi un campionato che prevedesse il vincitore, quindi l'eccellenza del 2014 sulle performance di tutta la stagione. Brevemente è un circuito che prevede cinque date, nelle quali verranno effettuate tre gare indicativamente, una nord, una centro, una sud, cinque gare da 75 piattelli con la possibilità di scartarne una, da marzo a luglio. Una finale ad agosto a 100 piattelli, obbligatoria. Sul totale dei 400 piattelli senza finale ulteriori, i premi che avete visto brevemente, 100.000 euro di Montepremi distribuiti con fucili, con un viaggio a Las Vegas, con delle cliniche, con i campioni olimpici. Quindi la piccola novità è avere il campione che ha sostenuto le prove migliori lungo tutta la stagione. Noi viviamo un campionato che tante volte rende merito al campione che nella finale, quindi in quelle due giornate, ha le performance migliori. Che probabilmente è una formula che si addice molto al professionista, ma che all'amatore, che frequenta continuamente i campi, magari non si addice tanto. Quindi con questa formula e con questa scommessa crediamo di coinvolgere maggiormente i campi, i tiratori sui campi da tiro. Per noi questo è un momento importante per far sentire i tiratori una comunità. L'iscrizione è gratuita e il fatto che comunque in tutte le gare, in tutte le manifestazioni, le persone di Beretta, del territorio, i nostri, noi li chiamiamo un po' all'inglese business consultant, i nostri responsabili di area saranno presenti per aiutare il tiratore, dare consigli, indicare quali sono le novità dei nostri prodotti e le caratteristiche. Quindi ben volentieri mi fanno pagare queste iscrizioni, le pagheremo, non lo so. Esatto. Sotto forma di voucher chiaramente per poi acquistare del materiale, perché noi alla fine abbiamo una rete di vendita che lavora nelle armerie e quindi con questo voucher il tiratore potrà presentarsi nelle migliori armerie dove oltre a tutte le collezioni Beretta ci sarà naturalmente quella che vedete voi oggi è solo uno dei migli articoli che abbiamo nell'Official Merchandising della FITAV, perché poi anche nel vestire, anche nel prodotto che indossiamo tutti i giorni, ci riconosciamo nei nostri campioni. Quindi penso sia motivo d'orgoglio per tutti avere questo scudettino qua vicino al cuore e per me particolarmente, perché ormai sono 14 anni che sono con questa azienda, c'è che ha una longevità maggiore della mia, ma anche questo sul braccio con il tre frecce e il logo FITAV direi che sono la giusta combinazione vincente. Grazie, non mi resta che chiudere ringraziando innanzitutto voi dandovi appuntamento a tutte quelle che sono le riviste di settore che vedete qua che già da domani ci aiuteranno a ricordarvi quali sono le modalità di iscrizione, partecipazione e regolamento a questo campionato. Noi speriamo che vi piaccia, è una scommessa che facciamo perché crediamo nel tiro a volo e vogliamo davvero allargare sempre di più quello che è il bacino di utenza di appassionati che si cimentano in questo sport. Vi ringrazio per essere qua oggi, ringrazio i campi da tiro che saranno al nostro fianco per 16 appuntamenti da marzo fino ad agosto dove vi do appuntamento tutti quanti per festeggiare insieme la finale ospiti del Tav Rimini e di Alberto. Grazie a tutti, buon hunting show!